Professore, i missili perforanti sono pronti al lancio. Lanceremo direttamente dalla rampa della base. Preparatevi. Professore, quest'operazione non ha precedenti. Potrebbe mettere in serio pericolo le strutture portanti della base. Io giudico più sicuro operare il lancio dal big shooter. Impossibile, occorre troppo tempo. Se commettiamo un errore di traiettoria e manchiamo l'obiettivo, potremmo colpire Jig e metterlo fuori uso. Dobbiamo correre questo rischio. Pronti a lanciare i missili. I rossi, i missili saranno lanciati direttamente dalla base. Come? Dalla base? Dai attento alla traiettoria. Allontanati dal mostro Aniva. Avanti, Miva. Proteggi la ritirata di Jig. No, non è possibile. L'astronave di Mika sta venendo contro di me. Boomerang elettronico! Pronti, lanciare i missili. Lanciare i missili. Pronti per il lancio? Ehi, che intendono fare? Forza, i rossi. Sotto con un doppio maglio perforante. Maglio perforante! Anivžerati. Avast Cowals! La fine occidental. La fine occidental. Grazie a tutti. La fine occidental. Tra noi non è ancora finita, un giorno ti strapperò le viscere e allora la campana sarà finalmente mille.